E la Legofan, benvenuti a tutti! Continuiamo i speciali dedicati al Natale con il set 40205 Un Seasonal e questi sono gli Elfi aiutanti di Babbo Natale. Il set è costituito proprio da due Elfi e un tavolo su cui sono presenti tutta una serie di doni che gli Elfi appunto stanno preparando per poi spedirli ai bambini di tutto il mondo. Ok, andiamo subito a dare un'occhiata ai due Elfi che anche in questo caso qua, come per la figura di Babbo Natale presentata nello scorso video, sono seduti, questa volta su delle sedie davvero bellissime e rifinite fino ai minimi particolari. Guardate che meraviglia! Ok, quindi risultano seduti, gli Elfi hanno oltre a poter muovere le braccia come potete ben vedere, presentano anche la rotazione della testa, gli occhi sono in questa cosa qua stampati, presentano il cappuccio ovviamente immancabile, il rosso, e hanno anche delle clip della dimensione proprio delle mani, delle minifigure. Quest'Elfi in particolare ha un pennello e una tavolozza con i colori, fantastica. Altra cosa molto interessante è proprio il vestito dei due Elfi, guardate che belle le calze tutte colorate, e poi la parte superiore. Bellissime! Ok, andiamo ora a vedere l'altro Elfo, eccolo qui, che ha una diversa testa e diversa appunto anche il vestito, invece identica è la sedia su cui è seduto. Ok, il vestito come potete vedere alterna, i colori sono simili, però sono alternati in modo differente. In questo caso qua ha due martelli nelle mani, ok, bellissimo. Altra parte davvero interessante del set, che vi ricordo è un Seasonal 1 stagionale, e questo è un bellissimo tavolo, su cui sono presenti una serie di doni. Questi sono praticamente gli stessi colori presenti sulla tavolozza, c'è il giallo, c'è il blu, c'è il rosso e il verde, potrebbero essere proprio dei colori che vengono utilizzati dall'Elfo per dipingere. Qui sul lato sono presenti delle clip, c'è un'ascia e un secchiello. Il tavolo di per sé è magnifico e ricorda ovviamente gli stessi caratteri, gli stessi temi delle due sedie. E poi, e qui sono presenti altri elementi, questi potrebbero essere, non so, delle confezioni. Anche in questo caso qua, da notare gli stessi colori della tavolozza e di questi quattro cilindri. Poi la parte più interessante è la presenza di questo treno, piccolissimo. Guardate che forte che è, bello, 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 bello. Uno dei doni, insomma, che stanno preparando, che stanno costruendo gli Elfi, aiutanti di Babbo Natale. Ok, un altro magnifico set stagionale dedicato al Natale. Vi ricordo che questo è uscito nel 2016, insieme con quello di Babbo Natale che vi ho già presentato nell'altro video. Eccolo qua, ve lo rifaccio vedere. Questo è il perfetto, giusto, la perfetta e giusta coppia di set da poter esporre, insomma, proprio in questo periodo. Ok ragazzi, come sempre fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo magnifico set. Scrivendo commenti e lasciando like. Iscrivetevi al canale. Buona costruzione a tutti, buona Natale a tutti e al prossimo video. Ciao ragazzi. Grazie. 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 Grazie.